A presto il via oggi su tutto il longumare di Roseto, la raccolta di rifiuti con il sistema del porta a porta. Intanto il sindaco Ennio Pavone critica la minoranza di centrosinistra per i troppi abbandoni dell'aula durante i consigli comunali. Ho sentito venirmelo la fiducia del partito nei miei confronti e mi sono dimesso da coordinatore provinciale di Futuro e Libertà. Tony Lattanzi spiega così il suo gesto maturato alla vigilia dell'elezione di Martinsicuro. Chi per davvero replicano al sindaco sul teatro romano, Brucchi non cambi le carte in tavola, non faccia passare per detrattori quelli che da sempre si battono per il recupero del monumento. Quando la comicità si mescola alla solidarietà, appuntamento sabato dalle 17 al centro commerciale Gran Sasso con la fase conclusiva dell'iniziativa Il Colore di un Amico. Il Teramo domani in campo ad Umbertide contro Salerno per la semifinale della Pullo Scudetto. Calcio d'inizio alle ore 18, arbitra Francesco Guccini di Albano Laziale. Mentre il futuro del Teramo Basket è appeso ad un filo, Neplof Scudetto, Milano e Sassari sono già approdate in semifinale. Intanto Cantù corteggia Achille Polonara. Buonasera e benvenuti al telegiornale Teleponte. Buonasera, apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Una persona è stata arrestata ed altre quattro denunciate nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Chieti sullo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione di numerose donne e transessuali. L'arrestato su disposizione del GIP del Tribunale di Chieti Antonella Redaelli e Maldonado Dominguez Henry Giovanni in arte Angela, trentenne colombiano residente a Silvi Marina ma di fatto domiciliato nella capitale dove ieri è stato bloccato. Dalle indagini è emerso che da aprile 2011 il colombiano ha sfruttato la prostituzione di donne e transessuali che collocava in due appartamenti di Lidio Riccio a D'Ortona pubblicizzati con annunci su quotidiani facendosi dare in cambio dai 500 ai 700 euro al mese o alla settimana oltre al prezzo dovuto per pagare l'affitto al proprietario. Denunciati anche una donna di nazionalità indiana residente a D'Ortona una prostituta di Alba in provincia di Cuneo e un colombiano domiciliato a Pescara. E passiamo a Roseto perché oggi ha preso il via su tutto il lungomare la raccolta di rifiuti con il sistema del porta a porta. Vediamo. Assessore Fornaciari ci siamo quasi tra poco partirà il servizio di raccolta porta a porta su Roseto Capoluogo. Esatto. Oggi cominciamo qui nella zona del lungomare sia per quanto riguarda il lungomare Trento che per quanto riguarda il lungomare Trieste. Questo è l'inizio di una nuova fase che segue una fase preliminare di incontri molto partecipati con i cittadini. Quindi abbiamo fatto due cicli di incontri con la cittadinanza altri tanti incontri con le scuole elementari e medie della città. Abbiamo informato i cittadini per renderli partecipi perché questa è un'attività che necessita appunto di una grande partecipazione dei cittadini del recepimento di quelle che sono le regole del porta a porta. Oggi cominciamo con il lungomare che è appunto la fase iniziale di un servizio porta a porta che riguarderà 7200 utenze domestiche e 1100 utenze non domestiche che praticamente rappresentano il 65% delle utenze totali dell'intera città di Roseto degli Abruzzi. Assessore intanto state rimuovendo i cassonetti sul lungomare saranno oltre 100 probabilmente i cassonetti da togliere e recupererete anche posti auto. Esatto, questa diventa anche a questo punto una comodità e comunque contribuisce a risolvere un altro problema della città che è quello della carenza dei posti auto. Sottolineiamo d'altronde quello che è un risultato politico importantissimo quello della continuazione di questo servizio che già era cominciato lo scorso agosto, l'11 di agosto dello scorso anno con l'inizio per la fase sperimentale del lungomare centrale e che adesso interesserà l'intera area di Roseto Capoluogo. L'estensione del porta a porta a Roseto degli Abruzzi era uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ennio Pavone che ne approfitta per criticare l'atteggiamento del centro-sinistra per i troppi abbandoni in consiglio comunale. Vediamo. Sindaco Ennio Pavone, continuano le polemiche sul mercato rionale del giovedì. Voi una decisione l'avete presa però la sinistra a Roseto, la sinistra rosetana critica il vostro operato. Voi che cosa rispondete, che cosa dite? Noi rispondiamo con i fatti. Come dice lei la sinistra rosetana critica, oggi rispondiamo con i fatti, stiamo qui a lungomare a togliere questi cassonetti ed è un momento storico per questa città che viene ascritto il merito a questa amministrazione comunale da me guidata. Dopo tante chiacchiere Roseto verrà liberato dai cassonetti dell'immondizia e inizia il porta a porta, si riacquisteranno posti macchine sul lungomare, non si sentirà più la puzza e questo va ascritto a merito di questa amministrazione che nel giro di 9-10 mesi è riuscito in un'impresa in cui gli altri non sono riusciti per anni. Sicuramente è un momento non facile, come diceva lei. In questi momenti c'è bisogno di gente che decida, non di pattinatori. Noi ci stiamo contraddistinguendo perché questa amministrazione è un'amministrazione che decide, non pattina, non rinvia, si assume le proprie responsabilità. Il centro-sinistra invece che abbandona l'aula durante i consigli comunali, che cosa si sente di dire? A centro-sinistra mi sento di dire che ancora non si riprende dalla scopola elettorale. Credo che si debba riorganizzare, credo che un'opposizione seria e concreta faccia il bene di una città. Noi ci auguriamo che ci sia un'opposizione seria, concreta, fattiva, ma non che abbandoni l'aula, ma che sia partecipe di un discorso e si confronti sui temi della città. Questi sono i temi della città, su questi, tipo la riserva del Borsacchio, tipo il CIRSU, tipo la discarica che si deve fare, su questi argomenti dove purtroppo il centro-sinistra ha solamente abbandonato l'aula. Ho sentito venire meno la feduce del partito nei miei confronti, ma mi sono dimesso da coordinatore provinciale di Futura e Libertà. Tony Lattanzi ha spiegato così il suo gesto maturato alla vigilia delle elezioni amministrative di Martinsicuro, ma ha commentato, continuerò a fare politica in prima linea. Ascoltiamolo. Mi sono rimesso perché ho avuto delle vedute diverse con il gruppo più stretto che avevo qui a Teramo, in merito alle elezioni di Martinsicuro, dove dovevamo presentare la nostra lista, io ero il candidato sindaco, ma per questioni personali ho dovuto per forza lasciar perdere, ritengo per forza. La visione diversa era quella che gli amici di Teramo volevano che comunque la lista fosse presentata. Io ho pensato che presentare una lista all'ultimo momento, con candidati presi qua e là, avrebbe fatto del male al partito. Questa è una mia idea. Gli altri di Teramo, il gruppo con il capogruppo regionale Bernardo Robuf, invece, sono stati di idea diversa. Ho sentito venire meno la fiducia ai miei confronti e da persona corretta ho rassegnato le missioni. Qual è il futuro ora per Tony Lattanzi? Di tornare a fare politica in prima linea, opponendomi a tutte quelle lobby che troppo spesso nei territori periferici vogliono appropriarsi di qualcosa che non è possibile. Tutto ciò magari creando una lista civica? È possibile, è possibile che fra cinque anni un gruppo di amici, partirò dagli stessi amici che mi avevano dato la lesione adesso, partendo da questo gruppo si potrà creare qualcosa di civico. Anche perché per i paesi come Martinsicuro non c'è bisogno dell'emblema di partito o meno. C'è bisogno soltanto di tanta buona volontà, di idee chiare e chiaramente poi di persone dichiaratamente oneste. Io rispetto agli altri, non dico che gli altri sono disonesti, ma io ho avuto questa patente, questo certificato che mi hanno dato i giudici dopo dieci anni di processo perché mi hanno veramente spulciato tutto. E se sono stato assolto con formula piena qualcosa vorrà dire. Spostiamoci a Teramo adesso. I per davvero replicano al sindaco sul teatro romano e dicono Brucchi non cambi le carte in tavola. Non faccia passare per detrattori quelli che da sempre si battono per il recupero del monumento. Ascoltiamo. Altro che similitudini con l'8-0, il sindaco Brucchi forse non se ne è accorto, ma il recupero del teatro romano da quasi un ventennio, è diventato una tela di Penelope e un pozzo di San Patrizio. Lo scrivono in una nota i componenti dell'Associazione I per davvero. Nella seconda metà degli anni 90, dicono ancora I per davvero, gli enti preposti lasciarono decadere il diritto di prelazione sull'acquisto di Palazzo Adamoli. Successivamente, dice ancora l'Associazione nella nota, nel quinquennio del governo regionale Pace ci fu un ravvedimento e la regione riacquistò dai privati l'edificio con lo scopo dell'abbattimento, pagandolo però quattro volte di più. Ma a sorpresa, dicono ancora I per davvero, quando furono smantellati i cantieri si notarono degli imponenti e impattanti contrafforti a sostegno di Palazzo Adamoli. Di cosa si occupava il sindaco Brucchi e tutta l'amministrazione comunale di centrodestra quando nel 2008 era assessore ai lavori pubblici e venivano perpetrati questi abusi, dicono ancora I per davvero? Dov'era il sindaco Brucchi quando associazioni come Teramo Nostra, insieme a tantissimi altri partiti, movimenti politici e cittadini che hanno sempre lottato per l'abbattimento degli edifici e il recupero del teatro romano denunciavano a più riprese anche con manifestazioni eclatanti agli amministratori locali, al governo regionale e al Ministero dei beni culturali gli abusi perpetrati dalla sovrintendenza regionale. Oggi, dicono ancora I per davvero, il sindaco Brucchi nel rivendicare la proprietà del comune sul teatro romano cerca di cambiare arbitrariamente le carte in tavola tentando di far passare coloro i quali si sono sempre battuti per il recupero come detrattori del teatro romano. In merito al teatro romano, dicono ancora I per davvero, il sindaco Brucchi, oltre che rivendicare la proprietà, farebbe bene a muoversi con comportamenti chiari e lineari conseguenti all'abbattimento dei palazzi e al recupero concreto dell'area sottostante. Purtroppo, concludono I per davvero, ad oggi constatiamo che quello che dice a parole è quotidianamente contraddetto dai fatti. Non funziona bene la raccolta differenziata a Teramo? Per l'assessore comunale, Rude Di Stefano, funziona benissimo e replica così alle critiche espresse dal consigliere regionale di Futuro e Libertà, Berardo Rabuffo. Ascoltiamo. Sono arrivate critiche all'amministrazione comunale di Teramo riguardo la raccolta differenziata. Eppure il comune di Teramo può freggiarsi, specialmente nell'ultimo periodo, di tanti premi e tanti riconoscimenti proprio per la raccolta differenziata. Sì, hai detto benissimo. Oggi sono particolarmente contento. Tengo a precisare che le critiche erano delle pochissime critiche che sono avute a un convegno in cui ho partecipato a Cambli, organizzato dal sindaco di Cambli, per appunto la gestione dei rifiuti. E le critiche arrivarono sul tipo di raccolta differenziare che fa il comune di Teramo. Mi dispiace che le critiche arrivarono pure da chi prima di me ha amministrato, quindi sa bene quanti sacrifici sta facendo il comune, ma oggi un altro ulteriore riconoscimento importante che abbiamo dopo i premi del vetro, della carta o anche quello della plastica oggi. Quindi a questo punto mi viene da dire a queste persone che ci hanno criticato che solo loro la vedono in questo modo, perché i consorsi di recupero sono tutti quanti entusiasti del tipo di raccolta che facciamo. Lei si riferisce in particolar modo al consigliere regionale Rabuffo? Sì, al consigliere regionale Rabuffo che tra l'altro è un amico, quindi è soltanto perché mi dispiace perché così si va contro quello che fanno i cittadini terramani, perché è chiaro che da amministratore dovesse anche servire e dire che se noi riceviamo tutti questi premi il merito non è certo dell'amministrazione comunale, cioè l'amministrazione dà l'input, c'è l'ottimo lavoro che svolge la Terramambiente, ma poi c'è l'assoluta massima collaborazione da parte dei cittadini. Inizialmente c'erano anche delle sacche di resistenza che oggi non troviamo più, pure l'abbandono dei rifiuti è sceso tantissimo, quindi il mio applauso lo devo fare ai cittadini terramani che veramente stanno dimostrando una grossa cultura. Restiamo a Terramo, la Giunta Municipale ha approvato lo schema di convenzione per il sostegno al credito dei fornitori del Comune attraverso la cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari. L'intesa è indirizzata ad agevolare le imprese che hanno svolto la loro attività per lente e che subiscono ritardi nei pagamenti. La convenzione consentirà lo smobilizzo prosoluto dei crediti vantati dei fornitori del Comune fino al 100% dell'importo e con contratti di valore unitario superiore a 20.000 euro. L'intesa prevede che potranno essere sottoscritte apposite convenzioni con le banche aderenti il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet dell'ente consentendo ad ogni operatore economico di individuare la banca cui riterrà opportuno rivolgersi. Le imprese interessate potranno indirizzarsi agli uffici del settore economico-finanziario dell'ente per ottenere ogni informazione necessaria ad attivare la richiesta di gestione creditizia. E sempre a Teramo domani mattina in Piazza Martiri della Libertà si svolgerà la manifestazione conclusiva del progetto Teramo in posa plastica organizzata dalla Team in collaborazione con l'Unicef e i civici musei teramani. Vediamo il servizio. Anche quest'anno la Team dà vita al progetto didattico Scuole-Città di Teramo e il progetto quest'anno è Teramo in posa plastica. Cosa accadrà? Allora abbiamo fatto un progetto all'interno delle scuole quest'anno abbiamo scelto di parlare di plastica dopo il premio questo riconoscimento nazionale che abbiamo avuto per migliorarne la qualità e quindi abbiamo parlato della storia della plastica questo materiale moderno nelle scuole abbiamo poi sostenuto questo percorso è stato sostenuto ovviamente da filmati tant'è che un prodotto riciclato sarà proprio il premio del concorso che poi abbiamo lanciato per cui sarà presente Corepra che è il consorzo nazionale della plastica che premerà le scuole vincitrici quindi i bambini hanno lavorato delle bottiglie e le porteranno giovedì mattina alle ore 9 in piazza e faremo l'allestimento di questa cattedrale Come servizio educativo dei civici musei avete creato la parte educativa dell'allestimento di questa opera d'arte Sicuramente è il servizio educativo dei civici musei con la dottoressa Porrini che ancora una volta ha dato impulso a quella che è un'idea secondo me straordinaria cioè riciclare delle bottiglie di plastica ma trasformarle in qualcosa di fortemente creativo Prosegue la fattiva collaborazione tra la TEM e l'UNICEF Certo perché ha avuto già grande successo gli anni passati e chiaramente l'intento è comune diciamo che per loro è più una questione pratica di far capire ai ragazzi l'importanza del riciclo per noi è far capire ai ragazzi che tutto ciò che succede a Teramo quindi anche la salvaguardia di un ambiente pulito un ambiente che sia rispettoso della vita incide profondamente sui bambini che sono così lontani da noi La Camera di Commercio di Teramo invita le imprese terramani a prestare attenzione alle comunicazioni trasmesse dalla società Avron SRO di Bratislava Slovacchia la quale chiede di controllare e modificare i dati relativi alla propria azienda riportati in un modulo la sottoscrizione e restituzione in busta preaffrancata di tale modulo contenente informazioni altamente ingannevoli determina la registrazione inconsapevole in una guida internet denominata registro del mercato internazionale della durata di tre anni al costo pensate di 1279 euro nel secondo caso si tratta della società messicana Expo Guide SC che gestisce una guida internet denominata guida per fiere ed espositori anche in questo caso si invitano le imprese destinatari a controllare i dati riportati in un modulo e a reinviarlo senza informare che così facendo aderiscono a una registrazione triennale a date a banche al costo di 1180 euro all'anno nei confronti delle suddette società l'autorità garante concorrenza in mercato l'antitrust ha deliberato e irrogato una sanzione pecuniaria di euro 100.000 dunque bisogna prestare attenzione e anche il sindaco di Pineto Monticelli sarà a Venezia a rappresentare i sindaci abruzzesi nella manifestazione di protesta per l'applicazione dell'Imu vediamo sindaco Luciano Monticelli lei è assieme ad altri sindaci della provincia di Teramo nella delegazione che venerdì sarà a Venezia per contestare un po' il governo Monti a proposito dell'Imu l'introduzione della nuova imposta sugli immobili al suo fianco anche il sindaco di Roseto Egnio Pavone il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi il sindaco di Giuliano Nova Francesco Mastromauro ma credo che ci saranno anche altri sindaci da tutta Italia ho letto già le adesioni che sono centinaia di sindaci che saranno il 24 a Venezia un movimento trasversale ma assolutamente l'anci è di fatto trasversale perché poi i sindaci non hanno nessuna rappresentanza politica quando amministrano e certamente quella problematica che noi da anni consideriamo la grande sciocchezza è quella di togliere lice oggi ne stiamo pagando con tutti gli interessi perché il fatto della rivalutazione del 60% delle rendite dei casadastali il fatto che bisogna poi aumentare perché bisogna equiparare quelle che erano le introduzioni del lice del 2007 quindi portano il mio comune di quella di Pineto il 4-8 la prima casa e l'8-6 la seconda casa abbiamo anche scritto proprio la città di Pineto scritto al lanci nazionale per dare la possibilità di pagare più rate in effetti la prima casa è possibile su tre rate anche se questo poi comporta minor gettito per le casse comunali ma dobbiamo andare incontro ai cittadini che la problematica più grande dei sindaci che stanno tirando fuori in questi giorni è che vuoi la congiuntura economica vuoi la crisi vuoi le difficoltà delle famiglie riusciranno i cittadini di Pineto e tutti italiani e dell'Italia intera a pagare l'Imu questo è il grande dubbio che ci viene il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro critica la gestione della sanità in provincia di Teramo la definisce fallimentare fallimentare ed attacca soprattutto l'atto aziendale della ASL di Teramo vediamo è evidente che la strategia della regione Abruzzo si è rivelata fallimentare in questi tre anni e mezzo così come l'azione del manager Varrassi lo è stato di converso un atto aziendale che doveva essere ispirato dalla logica della qualità dell'ottimizzazione delle risorse dell'abbattimento delle liste di attesa della riorganizzazione della medicina del territorio della riorganizzazione della medicina dell'emergenza oggi si rivela inadeguato un atto aziendale che invece di tagliare i doppioni e puntare sulla efficienza della offerta a vantaggio dell'autenza e quindi di quella di cui io parlo sempre di una sanità diffusa nella provincia di Teramo che va dal di là delle logiche campanilistiche non c'è un atto aziendale che non è stato condiviso con i territori le parla l'unico esponente del comitato ristretto dei sindaci di area di centro-sinistra che nonostante abbia fatto diverse proposte intese a raggiungere questo approdo finale del servizio migliore di qualità per il nostro territorio non è stato mai preso in considerazione così come i nostri territori un atto aziendale confezionato senza che ci fosse alla base un disegno di carattere regionale e questa è un'altra stortura che si sta rivelando un grave danno non si può operare nella sanità facendo solo il ragioniere e passiamo ad una nota di marco borgatti di federazione sinistra roseto che dice che nei giorni scorsi abbiamo lanciato l'allarme sulla privatizzazione del parco centola unica zona verde pubblica per un intero quartiere di roseto la replica del sindaco dice borgatti è quantomeno azzardata afferma che il parco rimane pubblico nonostante la presenza di strutture private a pagamento noi della federazione della sinistra prosegue borgatti siamo abituati a parlare chiaro un parco che rimane pubblico sulla carta ma è occupato per la quasi totalità da strutture a pagamento salvi due piccoli giochi spostati in un angolo non è più pubblico il presidente dell'UNMIL Vincenzo Tassoni attacca l'amministrazione comunale di Torricella sicura in merito alla questione che riguarda l'ostello della gioventù di Montefano ascoltiamo l'unione nazionale mutilati e invalidi del lavoro a ONLUS ha convocato una conferenza stampa per fornire elementi di trasparenza su alcune implicazioni dell'azione dell'amministrazione comunale di Torricella sicura quali sono le questioni motivo di dibattito? Beh abbiamo voluto informare la cittadinanza e le istituzioni a distanza di 12 mesi e qualche giorno dall'azione buttata avanti dal sindaco di Torricella e dai suoi collaboratori il 17 maggio 2011 basata sul principio della inderogabilità per i pericoli esistenti allora noi ci siamo detti bene sono passati 12 mesi vediamo cosa è stato fatto per superare questi pericoli inderogabili non è stato fatto nulla pericoli dove nello specifico? Il tetto della struttura dello stelo della gioventù di Montefanum di Torricella sicura è coperto con ondoline inamiando parte delle quali attualmente portate via dal vento e quindi si sprigionano le polveri sottili che noi sappiamo cosa sono e qual è la pericolosità poi c'è tutta una serie di azioni portate avanti da noi chiedendo al Tribunale di Teramo delle verifiche tecniche per stabilire la regolarità dell'immobile e i risultati sono assolutamente in linea con quanto noi avevamo denunciato e cioè che quella struttura non era idonea come non è idonea per svolgere una pubblica attività in quanto è carente del certificato di agibilità che non c'è è carente sotto l'aspetto delle norme per quanto riguarda gli invianti elettrici e di riscaldamento e carente sotto l'aspetto esterno con una rete che è pericolosissima quando la comicità si mescola la solidarietà appuntamento sabato prossimo dalle 17 al centro commerciale Gran Sasso con la fase conclusiva dell'iniziativa Il colore di un amico testimonial d'eccezione il comico Induccio vediamo sabato 26 maggio a partire dalle ore 17 si terrà presso il centro commerciale Gran Sasso un pomeriggio di festa e animazione dedicato al progetto Il colore di un amico lanciato lo scorso 23 ottobre protocinato da comune e provincia di Teramo e dalla regione Abruzzo con l'obiettivo di fornire postazioni multimediali agli studenti di una scuola in Togo ospite d'onore della manifestazione Saranduccio nella veste di presidente della Ollus fratello mio ha avuto successo quest'iniziativa che ora volge al termine? Eccezionale dovrei soltanto dire sì perché ringrazio Pamela perché ha detto tutto l'è grande successo inaspettato soprattutto come coinvolgimento delle scuole dei ragazzi nella realizzazione di vari lavori dai disegni ai dipinti e adesso concludiamo con un video il video sarà sottotitolato in francese ritrasmesso nella scuola in mezzo alla foresta di Atacpame in Togo e poi con la postazione che forniremo in Africa speriamo di avere un ponte veramente tra i ragazzi delle scuole di Teramo come si dice quando la comicità si mescola la solidarietà? Ma sì però devo dire la verità chi sta nel campo dello spettacolo quasi sempre ci si trova per una serie di situazioni anche psicologiche forse perché ha un attimo diciamo una visione diversa della vita è un po' più attento un po' più aperto un po' più sensibile forse chi lo sa? Come mai il centro commerciale Gran Sasso ha deciso di promuovere questa iniziativa? Abbiamo voluto fare un progetto più lungo un progetto che convoggesse anche le scuole medie un progetto che convoggesse un testimonio del territorio importante come Induccio e creasse qualcosa di un valore aggiunto non solo per il territorio ma che andasse anche oltre guardare oltre in un momento di difficoltà è importante l'abbiamo fatto insieme a Germano e alla sua Ollus Il centro servizi per il volontariato si allea con il BITB e apre la sala informatica per le associazioni un luogo destinato esclusivamente alla formazione dei volontari delle associazioni che lì potranno seguire corsi di alfabetizzazione informatica grafica ed altre discipline collegate all'utilizzo del PC e la sala informatica un progetto del centro servizi per il volontariato e del BITB Banco informatico tecnologico e biomedico e sarà inaugurato dopodomani venerdì alle ore 18 e 30 nella sede del centro sociale per il volontariato a Piano Daccio alla presenza di autorità volontari e cittadini in occasione del convegno sul tema la tecnologia digitale per il volontariato ragazzi e bambini delle scuole terramane padroni della sala consigliare del comune di Teramo per un giorno questo in occasione della primozione del concorso legato alla manifestazione Bim Bim Bici vediamo se qualcuno dei nostri consiglieri ci sono altre domande Oggi è arrivato a conclusione un progetto che ha coinvolto tantissimi bambini che hanno occupato di fatto la sala consigliare del comune Sì 300 elaborati Bim Bim Bici dove tutti come vogliono desiderano una città con la bici hanno minuto 16 elaborati che parteciperanno al concorso nazionale sono contento perché ogni anno aumenta vuol dire che piace dobbiamo continuare così e il bambino forse ci fa riflettere e conoscere bene qual è il futuro per loro Tra l'altro c'era il rappresentante ufficiale dei ragazzi dei bambini che sedeva al posto del presidente del consiglio comunale Sì il consiglio comunale della Savini che ringrazio la maestra e i dirigenti perché hanno svolto un bel lavoro con loro il presidente del consiglio e il sindaco e gli assessori hanno portato delle domande noi speriamo di poter risolvere i loro problemi e adesso una notizia particolare perché domani sera al circolo Terramano si terrà una serata di beneficenza a favore delle vincenziane si esiberà tra gli altri De De Manini primario di radiologia all'ospedale di Giulianova con la passione della musica vediamo spettacolo di De De domani al circolo Terramano dalle 20 e 30 in poi cosa porterà in scena? porteremo in scena qualche canzone nel vecchio repertorio e qualche canzone nuova per vecchio repertorio intendo dire ovviamente qualcosa dei teltoni sempre anni 60 però con qualche piccola novità altrimenti la gente cerchiamo rischiamo di annoiarla come una da chi sarà accompagnato? dai geriatrica geriatrica che è un complesso di Terramo tra le altre cose che ho l'onore di farmi accompagnare che è capitanato da un mio collega che era il primo cardiologo all'ospedale di Giulianova Pietro Di Sabatino e che ha avuto diciamo così la gentilezza la cosa che farà uno spettacolo lui un vero concerto e in più accompagnerà me tra gli performance lei è un medico principalmente ma oramai è diventato talmente famoso anche come cantante come showman che si esibisce anche a livello nazionale recente la sua partecipazione alla set una trasmissione di cucina questo sì con la musica non c'entra niente anche se sono riuscito a mettere dentro la trasmissione un accendo di cuore matto è vero sì tra le mie varie passioni c'è anche la cucina quindi sono stato chiamato per fare questa trasmissione a cuoio fiamme per fortuna l'ho anche vinta poi tra le altre cose è andata bene così una serata un po' più seria una serata di beneficenza per le vincenziane quindi tutto l'incasso sarà devoluto per beneficenza per questa associazione non si potranno usare i look sgargianti che sono solito usare i look rock rock duro sarà un atteggiamento una serata un pochino più composta ma non troppo sarà un grande buffet e poi e poi bisognerà vi accontenterete chi viene si deve accontentare della mia performance e ovviamente del concerto di Geriatrica che invece fanno ottima musica soprattutto di Ucio Battisti e adesso vediamo che tempo farà domani con le previsioni meteoteramo.it Previsioni per domani in provincia di Teramo mattina caratterizzata da tempo soleggiato ad eccezione di sterili annuvolamenti in transito da nord verso sud nel pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori appenninici dove saranno possibili fenomeni sparsi in prossimità dei crinali tra sera e notte cielo gradualmente nuvoloso ma senza precipitazioni da segnalare temperature in aumento massime comprese tra 22 e 25 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 21 e 24 gradi sulle coste venti deboli o moderati settentrionali mare poco mosso apriamo la pagina sportiva con il calcio parte domani la final four potrebbe essere definita così per la pullo scudetto di serie D il Teramo giocherà alle ore 18 ad Umbertide affronterà il Salerno mancherà Chauvet arbitrerà Francesco Guccini di Albano Laziale eservizio il Teramo insegue la finale che assegna lo scudetto dei dilettanti domani al Morandi di Umbertide con inizio alle ore 18 i biancorossi sfideranno il Salerno nella seconda semifinale della pull scudetto l'altra sfida invece prevista alle 15 e 30 città di Castello metterà di fronte Venezia e Martina Franca anche se la stagione è oramai il crepuscolo e il Teramo ha centrato il suo vero obiettivo stagionale ossia tornare tra i professionisti l'appendice della post season viene vissuta con le giuste motivazioni in casa biancorossa provarci non costa nulla anzi la truppa di Cappellacci arrivata a questo punto non vuole lasciare nulla di intentato il Teramo si presenta alla sfida con il Salerno dell'ex capitano biancorosso Nicodemo con la rosa praticamente al completo l'unica defezione dovrebbe essere quella del terzino Chauvet uscito domenica anzitempo per un problema muscolare con il Ponte d'Era resta da verificare chi sarà utilizzato sull'out di sinistra il favorito è De Fabritis in casa campana invece il tecnico Perrone dovrà fare a meno degli infortunati Biancolino e Munard per loro la stagione è già finita mentre dovrebbe saltare la semifinale anche Montervino che potrebbe recuperare solo per l'eventuale match di finale in caso di parità alla fine dei 90 minuti si tireranno direttamente i calci di rigore la finale che assegna lo scudetto dei dilettanti invece si giocherà sabato 26 maggio a Gubbio con inizio alle 17.15 con diretta su Rai Sport nel frattempo la società del presidente Campitelli attende la fine degli impegni agonistici per programmare il prossimo campionato e iniziare a costruire la nuova squadra domenica 3 giugno intanto allo stadio di Piano Daccio si giocherà un memorial in ricordo di Romano Malavolta Junior ex presidente del Teramo scomparso un mese fa all'iniziativa denominata Romis Stars prenderanno parte tanti giocatori del recente passato del Teramo l'incasso sarà devoluto in beneficenza e passiamo adesso alla pallacanestro perché mentre il destino della Teramo Basket rimane appeso ad un filo intanto Milano e Sass riaccedono alle semifinali dei playoff scudetto va avanti invece la serie tra Siena e Varese tra Cantù e Pesaro la stessa Cantù pare intanto interessata al giovane bianco rosso Achille Polonara vediamo se il futuro del Teramo Basket l'unica società di Serie A a non aver adempiuto alla scadenza della federazione per quanto concerne il pagamento dei contributi è sempre più appeso ad un filo sottile il Massimo Torneo sta vivendo le sue fasi conclusive con la disputa dei playoff due squadre hanno già staccato il pass per le semifinali Milano e la sorpresa Sassari i Meneghini che stanno vivendo un ottimo stato di forma hanno vinto la serie con Venezia per 3 a 0 per la squadra di Scariolo si tratta dell'undicesima vittoria consecutiva dall'altra parte del tabellone invece brilla la stella di Sassari mai in precedenza capace di arrivare così in alto la squadra guidata da Meo Sacchetti presa per mano dall'ex Teramano Diner ha vinto la serie con Bologna mostrando in gara 2 in gara 3 una straordinaria capacità di trovarsi a proprio agio nei finali al photo finish le altre due sfide dei quarti di finale invece sono ancora aperte Siena che rispetto agli anni precedenti sembra mostrare qualche piccola crepa conduce per 2 a 1 contro Varese e stasera i toscani saranno impegnati in gara 4 sempre in casa della Cimberio anche Pesaro ha riaperto i giochi vincendo gara 3 con Cantù avanti nella serie per 2 a 1 il quarto confronto tra Canturini e Marchigiani si disputerà domani sera a Pesaro tornando alle vicende di casa nostra ieri Bruno Cerella che si era infortunato nella gara di Milano si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio l'operazione effettuata dall'equipe del dottor Raul Zini all'ospedale di Pesaro è perfettamente riuscita ora per il giocatore italo argentino seguito con interesse da diverse squadre Siena in primis inizierà la lunga fase di rieducazione intanto la Bennett Cantù sta seguendo con attenzione Achille Polonara il giovane biancorosso sarà impegnato a giugno con la nazionale sperimentale dove ritroverà anche coach Alessandro Ramagli con il rischio che la Teramo Basket possa scomparire però l'interesse della società Canturina su Polonara potrebbe a breve concretizzarsi l'invasione festosa di oltre mille sportivi centinaia di incontri nelle dimore dello sport cittadino a dipingere di arancioblu luoghi pubblici e impianti per cinque giorni dal 30 maggio al 3 giugno la città di Teramo sarà vestita a festa diventando il naturale teatro dello sport educativo nazionale messo in campo dal centro sportivo italiano il planning è fitto di impegni agonistici e non da mercoledì 30 maggio a giovedì primo giugno spazio alle finali nazionali del progetto stand up con l'attività dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di tutta la penisola che hanno primeggiato nelle precedenti fasi si prospetta poi un lungo weekend invece per le finali interregionali dagli sport di squadra timbrati CSI dal primo al 3 giugno prossimo infatti si metteranno in vetrina le migliori squadre di Abruzzo Marche Molise ed Umbria nelle 5 discipline promosse del calcio calcio a 5 calcio a 7 pallacanestro e pallavolo bene era questa l'ultima notizia vi ricordo gli appuntamenti su Teleponte alle 20.30 non perdete il fare banca con il direttore generale di Banca Tercas Dario Pilla per parlare di banca di come ci si può rapportare con gli istituti di credito alle 21 invece Benessere Magazine alle 22.30 l'ultima edizione del nostro telegiornale poi alle 23 il tradizionale appuntamento con fino a prova contraria condotto da Roberto Almonti Arrivederci Bene è tutto grazie per averci scelto ci vediamo alle 22.30 grazie per averci scelto